Importante presa di posizione dell'ex sindaco ed ex senatore Claudio Molinari in merito al progetto di demolizione e ricostruzione della gelateria Punta Lido a Riva del Garda. All'indomani della protesta pubblica promossa dall'associazione Riccardo Pinter e condivisa da numerosi esponenti della società civile, Molinari ha inviato una nota. Facendo parte del collegio dei probiviri dell'associazione Pinter ero informato dell'iniziativa. Comunque mi limito ad una battuta. L'iniziativa di sabato, alla quale avrei voluto partecipare, è la spia di un disagio più generale che si percepisce in città. Ecco, prosegue l'ex sindaco e senatore, questa ne è un tassello che chi ritiene di essere temporaneamente classe dirigente della città, a mio avviso non può ignorare o archiviare con astio classificando chi protesta con le solite etichette. A chi gli fa notare che però la demolizione della gelateria è contemplata nel piano fascialago approvato durante la sua ultima legislatura, era il 2007, Molinari risponde osservando che quel piano attendeva tante altre cose che non sono mai state fatte. All'indomani della protesta e dell'invito ad un ripensamento sull'intero progetto, le parti maggiormente in causa mantengono un profilo basso. Il presidente della Hotel Lido Palace S.p.a. Paolo Pederzolli al momento preferisce non dire nulla, mentre il sindaco Mosaner sottolinea come non si tratta di un argomento immediato e urgente, visto e considerato che i lavori dovrebbero svolgersi a novembre. E anche il gruppo consigliare Onestà, Partecipazione e Ambiente della Comunità di Valle prende posizione sulla vicenda della ristrutturazione della gelateria Punta Lido a Riva. Dopo le proteste di questi ultimi giorni, scrivono i consiglieri, il sindaco di Arco Betta potrà essere soddisfatto. Difatti le ire del popolo questa volta si sono riversate nei confronti del collega Mosaner per aver dato corso al progetto dell'architetto Cecchetto. Nel febbraio scorso il nostro gruppo consigliare ha presentato una question time in Comunità di Valle sul conflitto di interessi dell'architetto Cecchetto per aver assunto l'incarico di elaborare il piano territoriale di comunità e successivamente incarichi da parte di privati per opere nella stessa fascia lago. A tale interrogazione è stata fornita una risposta non convincente, negando l'esistenza di ogni conflitto di interessi. Si evidenzia, proseguono Angioletta Maino ed Ezio Viglietti, che un professionista che ha ricevuto un incarico pubblico di pianificazione non può assumere incarichi da parte di privati sullo stesso territorio, fino a quando il processo non si è concluso. Tutto ciò è stabilito dalla nuova legge urbanistica provinciale numero 15 del 2015.